Salamu alaikum, a scambio alla giornata con voce capitolo 3, traino di veicolo in avaria, comportamenti nel traino di fortuna, dispositivi di traino, ganci, timone, ralle, connessi elettrici, ganci e occhione, ralle, freni, ralle, operazione di ganci ed sgancio del rimorchi e gancia a sfera. Eccetra neanche a la la luce a la luce, traino di attesa, traino, traino, schathe dada, grazie Grazie a tutti 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 Grazie a tutti